eccitante ragazzi quello che vi svelerò all'interno di questo video è letteralmente eccitante questo video è molto importante ti chiedo quindi di seguirlo fino alla fine innanzitutto scusa la voce non è bellissimo ma sai un po di problemi di raffreddamento oggi ti svelerò un segreto che può letteralmente rivoluzionare la tua vita resta fino alla fine del video perché poi nel prossimo video che sarà pubblicato nei prossimi giorni potrò rivelarti una tecnica straordinaria per avere finalmente un rapporto sereno e felice con te stesso perché avere un rapporto sereno e felice con noi stessi è un vero e proprio premio è qualcosa di davvero fondamentale oltre che piacevole oggi parleremo di neuroplasticità neuroplasticità significa che tu puoi letteralmente cambiare la tua vita perché puoi cambiare di te qualsiasi cosa può cambiare tutto il cervello è neuroplastico significa che costantemente si modifica in base agli stimoli dell'ambiente ogni volta che fai per la prima volta una qualsiasi azione o pensi una qualsiasi cosa per la prima volta stai generando dei nuove connessioni nel tuo cervello è un po come un'autostrada il tuo cervello è un'autostrada anzi no è come una strada urbana piena di incroci e questi incroci sono i tuoi pensieri ogni volta che generi un nuovo pensiero stai generando un nuovo percorso e un nuovo percorso significa un nuovo comportamento e un nuovo comportamento significa un nuovo risultato non è fantastico beh la neuroplasticità funziona esattamente così quando tu fai per la prima volta qualche cosa o pensi qualche cosa per la prima volta si crea una nuova connessione questa connessione però come un sottile filo quindi se tu non lo pulerai se tu non ripeterai quell'azione più volte se tu non ripeterai quel pensiero più volte quello che rischi e che si spezzi e di conseguenza molto probabilmente dimenticherai ciò che hai preso ma se tu ripeti 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 piano piano quel filo diventerà sempre più spesso fino a diventare un solido filo di lana e in quel momento tu avrai imparato un nuovo automatismo cioè a far o a pensare quella cosa in automatico senza alcuno sforzo ci sono tanti modi per apprendere nuovi modi di pensare nuovi comportamenti ma la cosa fantastica la cosa eccitante che ti svelo in questo video è che tu puoi letteralmente avere un cervello nuovo perché il cervello è come poco e quindi neuroplasticità significa che puoi cambiare la tua vita avere un cervello nuovo significa veramente avere nuovi stati d'ana e poter costruire un rapporto con te stesso diverso di stima di affetto di coccole di amore e poi finalmente arrivare ad accettarti e puoi costruire una nuova stima di te nel prossimo video inizieremo a vedere come nei prossimi tre video scopriremo tutto ciò che c'è da sapere per poter fare questo commenta il video se ti va metti un bel mi piace un bel non mi piace se non ti è piaciuto condividilo e iscriviti al canale visto che siamo sempre di più e poi ci sarà un premio per tutte le persone che vedranno questo e gli altri due video un premio favoloso un regalo che ti aiuterà a cambiare la vita qui in descrizione trovi l'indirizzo del mio blog trovi la mia mail se mi vuoi scrivere e trovi tutto ciò che ti serve per poter contattare o per poter entrare in contatto con me legge attentamente la info box ti ringrazio per avermi seguito e ciao da marco e ricorda io credo in te e sono contagioso